Benvenuti alla rubrica mensile, dal libro allo schermo, pubblicata ogni ultimo giorno del mese che presenta i film e le serie televisive del mese successivo, tratti dai libri. Scopriamo subito il programma del mese di ottobre 2023. Dal libro L'imprevedibile viaggio di Harold Phi di Rachel Joyce. Il film drammatico L'imprevedibile viaggio di Harold Phi di Rachel Joyce. Dal libro Cat Cemetery di Stephen King. Il film horror cimitero vivente le origini. Dal libro L'ultima volta che siamo stati bambini di Fabio Bartolomei. Il film commedia L'ultima volta che siamo stati bambini. Dal racconto La caduta della casa degli Asher di Edgar Allan Poe. La mini serie televisiva drammatica La caduta della casa degli Asher. Dal libro Lezioni di chimica di Bonnie Gormes. La mini serie televisiva Lezioni di chimica. Dalle storie tratte nella saga di Piccoli Brividi di Robert Lowenstein. La mini serie televisiva Horror Teen Piccoli Brividi. Nello specifico è tratta dai libri per ragazzi, tra cui Foto dal futuro, La maschera maledetta, La pendola del destino, Vendetta stresciante e Il pupazzo parlante. Dal libro Gli assassini della terra rossa di David Graham il film storico Thriller Killers of the Flower Moon. Dal libro Sentieri neri di Sovain Kassin il film drammatico a passo duomo. Dal libro I leoni di Sicilia di Stefania Aucci. La serie televisiva drammatica I leoni di Sicilia. Dal libro The hard sell crime and punishment at an opioid startup di Evan Hughes. Il film drammatico Pain Hustlers Il business del dolore. Dal libro Fellow Travelers di Thomas Mellon. La mini serie televisiva thriller. Politico romantica compagni di viaggio. Ti ricordo che nella playlist dal libro al film adattamento cinematografico puoi trovare quali libri sono stati adattati come film e serie tivo. Ora invece conosciamo i dettagli degli adattamenti in uscita a ottobre ed infine le schede e le trame dei rispettivi libri. Il film L'imprevedibile viaggio di Heald Fai, in uscita al cinema il giorno 5 ottobre. Racconta la storia di un uomo comune di nome Harold che ha trascorso la sua intera vita vivendo ai margini, senza mai fare nulla di avventato. Vive a Kingsbridge insieme alla moglie Maureen, sebbene il loro matrimonio sia ormai così tranquillo da sembrare caduto nella monotonia. Un giorno, mentre sta andando a imbucare una lettera, Harold scopre che una sua vecchia amica Queenie Hennessy è molto malata e decide di andare a trovarla. Sicuro che il suo eroico gesto terrà in vita la sua amica, l'uomo intraprende un viaggio durante il quale incontrerà diverse persone, interessate al suo intento. È così che in breve tempo l'intera nazione si appassionerà alla sue gesta. Durante la sua lunga camminata, Harold avrà modo di riflettere molto sulla sua vita e in particolare anche sul suo unico figlio. Il film Cimitero vivente le origini, in onda sul canale Paramount Plus il giorno 7 ottobre, è ambientato nell'anno 1969, dove Judd Crandall sogna di lasciarsi alle spalle Ladlow, la sperduta cittadina del Maine in cui è nata e cresciuta. Ma presto scopre sinistri segreti sepolti al suo interno ed è costretto ad affrontare un'oscura storia familiare che lo manterrà per sempre legato alla città natale. Il film L'ultima volta che siamo stati bambini, narra la storia di tre bambini di 10 anni, Cosimo, Italo e Wanda, con i loro sogni, la voglia di scoprire il mondo e la spensieratezza dell'infanzia intrappolate dalla Seconda Guerra Mondiale. Mentre l'intera nazione vacilla, i tre, di fronte alla scomparsa di un amico, non hanno dubbi, devono partire per una missione di soccorso. La loro fuga darà il via a una seconda, disperata missione di soccorso, quella di una suora e di un militare in convalescenza che subito si mettono sulle loro tracce. La speranza di raggiungere i piccoli fuggiaschi in poche ore si dimostra fin dall'inizio un imperdonabile errore di calcolo. Equipaggiati con l'incoscienza che è patrimonio di ogni bambino, un'amicizia che diventa più forte di giorno in giorno e una misteriosa mappa, Cosimo, Italo e Wanda portano avanti con caparbietà la loro missione, tra avventure spericolate e voglia di libertà pagata a caro prezzo. La mini serie televisiva La caduta della casa degli Asher, in onda sul canale streaming Netflix, a partire dal 12 ottobre, lunga otto episodi, per proteggere ricchezze e futuro. Un fratello e una sorella costruiscono una dinastia familiare che comincia a sgretolarsi quando i loro eredi iniziano misteriosamente a morire. La mini serie televisiva Lezioni di chimica, in onda sul canale di streaming Apple Plus, a partire dal 13 ottobre e lunga otto episodi, ambientata negli anni cinquanta, racconta la storia di Elizabeth Zah, il cui sogno di diventare una scienziata si scontra con una società patriarcale. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio in cui lavora, accetta di condurre un programma televisivo di cucina e decide di insegnare alle casalinghe trascurate del paese, e agli uomini che improvvisamente ascoltano, molto più di semplici ricette. La mini serie televisiva Piccoli Brividi, in onda sul canale di streaming Disney Plus, a partire dal 13 ottobre, lunga dieci episodi. Segue un gruppo di cinque liceali che intraprendono un viaggio difficile per indagare sulla tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Bero, portando alla luce anche oscuri segreti del passato dei loro genitori. Il film Killers of the Flower Moon, in uscita al cinema il giorno 19 ottobre, siamo negli anni 20 in Oklahoma. I membri della nazione Osage scoprono che sotto la terra in loro possesso si cela moltissimo petrolio e, appena la notizia diventa di dominio pubblico, molti di loro vengono uccisi o scompaiono. A indagare, guidata dal Ranger Tom White, giunge un FBI ancora in stato embrionale. Il giovane Ernest Burkhardt, reduce della grande guerra e sposato con l'indiana moglie, scopre ben presto che sul banco degli imputati c'è suo zio, l'ospietato proprietario agricolo William Hill, il quale aveva inizialmente spinto il nipote a sposare proprio un Osage in modo da aver la possibilità di mettere le mani sui terreni. La serie televisiva I Leoni di Sicilia, in onda sul canale Streaming Disney Plus a partire dal giorno 25 ottobre, lunga 8 episodi, è la vincente storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. In Sicilia si inventano un futuro, dove a partire da una bottega malmessa danno vita a un'attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà poi in un impero. Tuttavia, a travolgere la vita di Vincenzo, e quella di tutta la famiglia, è l'arrivo dirompente di Giulia, una donna forte e intelligente. In contrasto con le rigide regole della società del tempo, I Leoni di Sicilia è un'epopea fatta di amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni, che si svolge nella Sicilia dell'Ottocento fino all'Unità d'Italia del 1861. Il film Pain Hustlers Il Business del Dolore, in onda sul canale di streaming Netflix il giorno 27 ottobre, per poter mantenere la figlia, una donna finisce coinvolta in pericolose attività illegali dopo aver accettato di lavorare in una start-up farmaceutica sull'orlo del fallimento. La mini-serie televisiva Compagni di Viaggio, in onda sul canale di streaming Paramount Plus il giorno 28 ottobre e lunga 8 episodi. Al centro del racconto ci sono due uomini, il serio e ottimista Tim Loughlin e il carismatico e riluttante Hock Fowler, che si incontrano e si innamorano a Washington durante i difficili anni del maccartismo. Un periodo che prende il nome dal senatore Joseph McCarthy, politico rimasto alla storia per essersi fortemente opposto e aver perseguitato tutte quelle persone che riteneva avessero comportamenti filocomunisti. Nel corso di quattro decenni, Hock e Tim tornano a incontrarsi durante le proteste contro la guerra in Vietnam degli anni Sessanta. L'edonismo da discoteca alimentato dalla droga degli anni Settanta e la crisi dell'AIDS degli anni Ottanta, affrontando ostacoli nel mondo e in se stessi. Approfondiamo ora con le schede dei libri. La trama del libro L'imprevedibile viaggio di Harold Fry, quando viene a sapere che una sua vecchia amica sta morendo in un paesino ai confini con la Scozia. Harold Fry, tranquillo pensionato inglese, esce di casa per spedirle una lettera. E invece, arrivato alla prima buca, spinto da un impulso improvviso, comincia a camminare. Forse perché ha con la sua amica un antico debito di riconoscenza, forse perché ultimamente la vita non è stata gentile con lui e con sua moglie Maureen, Harold cammina e cammina, incurante della stanchezza e delle scarpe troppo leggere. Ha deciso, finché lui camminerà, la sua amica continuerà a vivere. Inizia così per Harold un imprevedibile viaggio dal sud al nord dell'Inghilterra, ma anche dentro se stesso, mille chilometri di cammino e di incontri con tante persone, che Harold illuminerà con la sua saggezza e la forza del suo ottimismo. Harold Fry è, a suo modo, un eroe inconsapevole, proprio come Forrest Camp. Un uomo speciale capace di insegnarci a credere che tutto è possibile, se lo vogliamo davvero. La trama del libro Pet Sematary, il dottor Lewis Creed ha appena accettato l'incarico di direttore sanitario dell'Università del Maine, e con un certo entusiasmo, posizione di prestigio, magnifica villa di campagna dove Eileen e Gage, i suoi bambini, possono crescere tranquilli, vicini gentili e generosi in una cittadina idilliaca lontana dal caos metropolitano. Persino Winston Churchill, detto Church, il loro pigro e inseparabile gattone, sembra subito godere dei vantaggi della nuova situazione. Ben presto, però, la serena esistenza dei Creed viene sconvolta da una serie di episodi inquietanti, piccoli incidenti inspiegabili che coinvolgono i bambini, pericolosi e giganteschi camion che sfrecciano sulla superstrada, proprio sotto casa Creed, incontri diabolicamente sorprendenti e, soprattutto, sogni. Sogni oscuri e terribilmente realistici che perseguitano Lewis da quando ha visitato il Pea Cemetery, il cimitero dove i ragazzi di Ladlow seppelliscono da sempre i loro animali domestici. Ufficialmente. Perché oltre quella radura, nascosto tra gli alberi, c'è un altro terreno di sepoltura, ben più terrificante. Un luogo carico di presagi e di richiami, spaventosi quanto irresistibili, provenienti da un altro mondo. Un luogo dove al dottor Creed toccherà una scoperta raggelante. A volte è meglio essere morti. Pet Sematary, definito dal Washington Post folle, potente, disturbante, è un vero e proprio classico della letteratura horror, ispirato, parola di King, da un leggendario racconto popolare. La zampa di scimmia. La trama del libro L'ultima volta che siamo stati bambini. Cosimo, Italo e Wanda sono bambini di appena dieci anni con i sogni. La voglia di scoprire il mondo e la spensieratezza dell'infanzia intrappolate dalla Seconda Guerra Mondiale. Mentre l'intera nazione vacilla, i tre, di fronte alla scomparsa di un amico, non hanno dubbi. Devono partire per una missione di soccorso. La loro fuga darà il via a una seconda, disperata missione di soccorso, quella di una suora e di un militare in convalescenza che subito si mettono sulle loro tracce. La speranza di raggiungere i piccoli fuggiaschi in poche ore si dimostra fin dall'inizio un imperdonabile errore di calcolo. Equipaggiati con l'incoscienza che è patrimonio di ogni bambino, un'amicizia che diventa più forte di giorno in giorno e una misteriosa mappa. Cosimo, Italo e Wanda portano avanti con caparbietà la loro missione, tra avventure spericolate e voglia di libertà pagata a caro prezzo. La trama del racconto La caduta della casa degli Asher Il narratore riceve una lettera dal suo amico di infanzia Warwick Asher, in cui lo supplica di raggiungerlo nella sua dimora di famiglia, la casa Asher. Viaggia per un giorno intero e appena scorge l'antico edificio viene invaso da un intenso sentimento di tenebre. Non c'è niente lì che non sia terrificante, la dimora, gli alberi spogli, una profonda pozza d'acqua nera che riflette la casa e il paesaggio, entrambi cupi e minacciosi. L'uomo si persuade che quel luogo sia immerso in un'atmosfera particolare, senza un'affinità con l'aria del cielo, e dal quale si alza un vapore arcano e greve. Le tenebre, l'orrore, il mistero di Edgar Allan Poe si uniscono all'arte di Antonello Silverini in questo racconto senza tempo, un classico del genere. La trama del libro Lezioni di chimica, Elizabeth Zarr è magnetica. Se entra in una stanza, state certi che non le staccherete gli occhi di dosso, perché è bella, e perché ha quel modo schietto di esprimere il proprio pensiero, che scende come una lama sulla superficie molle della morale comune. Siamo nel 1952, ed Elizabeth è una giovane chimica che lavora all'Hastings Research Institute in California. Un ambiente ferocemente maschilista dove il suo innegabile talento viene per lo più messo a tacere, sabotato, o usato per il prestigio altrui. Malgrado le difficoltà, il coraggio di rivendicare diritti e successi non viene scalfito e spinge Elizabeth a perseverare. C'è solo un uomo che ammira la sua determinazione. È Calvin Evans, genio della chimica in odore di Nobel. Con il quale nasce un sentimento puro in cui condivisione delle formule e attrazione fisica vanno di pari passo. Ma la vita, come la scienza, è soggetta a trasformazioni. E qualche anno dopo la tempra di Elizabeth, ora madre single, Folgora un produttore televisivo che le affida la conduzione di cena alle 6. Un programma di cucina che nelle sue mani diventa un appuntamento quotidiano immancabile per il grande pubblico. Il suo approccio rivoluzionario ai fornelli, infarcito di digressioni scientifiche, non mira solo alla preparazione di stufati, ma anche ad aprire gli occhi all'universo femminile. Lezioni di chimica è la storia di una donna irresistibile, che cade e si rialza più volte. È l'avventura di un'esistenza che rivalta gli schemi e costruisce un nuovo percorso. Nonostante tutto, con Elizabeth Zah si ride e si piange. È lei a dettare il ritmo, a indicarci quando andare a testa alta e quando invece è impossibile. Quello che sembra dirci, alla fine di tutto, è di non fermarci mai. La trama del libro Gli assassini della Terra Rossa. Il libro che ha ispirato l'ultimo capolavoro di Martin Scorsese. Negli anni 20 la popolazione più ricca d'America erano gli indiani osage dell'Oklahoma, nel momento in cui gli idrocarburi stavano per diventare la risorsa più importante del pianeta. Sotto il loro suolo furono trovati enormi giacimenti. Giravano in auto di lusso, vivevano in case faraoniche, mandavano i figli a studiare nelle migliori scuole d'Europa. Poi, a uno a uno, iniziarono a morire ammazzati. Sparati, avvelenati, vittime di agguati e imboscate, sempre in circostanze misteriose. E in questo strascico di vecchio West, tra petrolieri emergenti come J.P. Gatti e fuori legge come al terrore fantasma Spencer, chiunque osasse investigare finiva anche gli sottoterra. Quando le morti superarono le due dozzine il caso fu preso in mano dall'FBI. Appena nato, diretto da un giovane e ancora inesperto J.L. Grover, fu messa insieme una squadra di investigatori di origine indiana. Si infiltrarono. Alcuni finirono male. Comunque adottarono tutti i mezzi più o meno leciti a loro disposizione per portare alla luce una cospirazione agghiacciante. Un libro da leggere come un thriller, una Spice Toy. La trama del libro Sentieri Neri. Se me la cavo, traverso la Francia a piedi. Tesson è ricoverato in un letto d'ospedale. Il corpo in frantumi a causa di una caduta di 8 metri che poteva costargli la vita. In quel letto rimarrà per mesi, ed è lì che è nata la promessa da cui ha scaturito questo libro. Un anno dopo, al posto di una canonica riabilitazione in un centro specializzato, Tesson si mette in movimento nonostante i chiodi nella schiena e una paralisi facciale non ancora recuperata. La bocca gli pende da una parte e un occhio gli sporge dall'orbita. I ragazzini lo guardano con stupore mentre affronta il cammino. Si è messo in testa di seguire un precetto di Pessoa. Della pianta dico è una pianta. Di me stesso dico sono io. E non dico nient'altro. Che altro c'è da dire? Nel corso di questo viaggio solitario e sorprendente, compiuto tra l'agosto e il novembre del 2015 partendo dalla Provenza per arrivare in Normandia, Tesson racconta un paesaggio impervio e sconosciuto che si rivela percorrendo vie secondarie ignote ai più, sentieri neri che sembrano ingressi nascosti e segreti a un altro mondo. Dove dileguarsi e scomparire. Camminando Tesson osserva la natura sottratta all'invadenza dell'urbanizzazione e all'arrivo della tecnologia. Scopre il silenzio degli insetti lì dove l'agricoltura intensiva ha ridisegnato il paesaggio. Ascolta gli animali nella notte. E in fondo rifugge gli uomini. Dalle sue pagine e dalla sua ispirazione la Francia di campagna, la Francia profonda, un territorio ormai a tratti abbandonato, emerge come un luogo carico di vitalità, persino tumultuoso. E in giro sbucano i segni e i messaggi di chi ha fatto scelte radicali, resistendo al tempo che fugge. Accetto solo pane secco e libri, qui non c'è il wifi ma abbiamo del vino. A fargli compagnia, è un suo marchio di fabbrica, sono i libri, filosofi, poeti, studiosi, da Agamben a Giangiono, che gli danno l'occasione di ripensare alla vita, alla propria morte. Di conquistare di nuovo se stesso attraverso un farmaco faticoso ma efficace. Camminare, leggere, ragionare. Aprire gli occhi. La trama del libro I Leoni di Sicilia. La saga dei Florio. Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti, a essere i più ricchi, i più potenti. E ci riescono. In breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della città. Poi avviano il commercio di Zolfo. Acquistano case e terreni dagli spiantati nobili palermitani, creano una loro compagnia di navigazione. E quando Vincenzo, figlio di Paolo, prende in mano casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile, nelle cantine Florio, un vino da poveri, il Marsala, viene trasformato in un ettare degno della tavola di un re. A Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno, sott'olio e in lattina, ne rilancia il consumo in tutta Europa. In tutto ciò, Palermo osserva con stupore l'espansione dei Florio, ma l'orgoglio si stempera nell'invidia e nel disprezzo. Quegli uomini di successo rimangono comunque stranieri. Facchine il cui sangue puzza di sudore. Non sa, Palermo, che proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base dell'ambizione dei Florio e segna nel bene e nel male la loro vita? Che gli uomini della famiglia sono individui eccezionali ma anche fragili e, sebbene non lo possano ammettere, hanno bisogno di avere accanto donne altrettanto eccezionali, come Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica tutto, compreso l'amore, per la stabilità della famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese che entra come un vortice. Nella vita di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile. Intrecciando il percorso dell'ascesa commerciale e sociale dei Florio con le loro tumultuose vicende private, sullo sfondo degli anni più inquieti della storia italiana, dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia, Stefania uccidipana una saga familiare di incredibile forza, così viva e pulsante da sembrare contemporanea. La trama del libro The Hard Cell, Crime and Connishment and an Opioid Startup, la storia interna di un gruppo di giovani imprenditori che hanno guadagnato milioni vendendo antidolorifici, fino a quando il loro piano è andato in frantumi, mettendoli al centro di un processo penale di risonanza. John Capor aveva già accumulato una piccola fortuna nel settore farmaceutico quando fondò Insys Therapeutics. Era l'inizio degli anni 2000, un periodo di crescita per gli antidolorifici, e sviluppò una nuova formulazione di fentanyl, l'opioide più potente sul mercato. Evan Hughes svela il playbook delle case farmaceutiche. Si basa su un accesso senza precedenti agli insider della saga di Insys, dai vertici aziendali ai soldati raso, dai pazienti e dallo staff delle cliniche sparse in tutto il paese agli investigatori di Boston che trattarono il caso come una cospirazione nel traffico di droga, costringendo collaboratori e avvicinandosi ai protagonisti chiave. La trama del libro Fellow Travelers, Washington, D.C., all'inizio degli anni 50, un mondo di ideologie senza compromessi, bevute pesanti e dossier segreti, dominato da personaggi di spicco come Richard Nixon, Drew Pearson, Pearl Mesta e Joe McCarthy. In questa città febbrile fa il suo ingresso Timothy Loughlin, un laureato di recente alla Fordham e fervente cattolico desideroso di unirsi alla crociata contro il comunismo. Un incontro fortuito con un attraente e spendacione funzionario del Dipartimento di Stato, Hawkins Fuller, porta Tim al suo primo lavoro nella capitale degli Stati Uniti, e, dopo i tentativi di Fuller, al suo primo amore. Ora, mentre McCarthy intensifica la sua disperata ricerca di potere e le indagini interne si concentrano sui sovversivi sessuali nel governo, Tim e Fuller trovano sempre più pericoloso navigare tra le loro doppie vite. Trascinati in un vortice di inganni e intrighi e aggrappandosi all'amicizia di una bellissima giovane donna di nome Mary Johnson, Tim lotta per conciliare le sue convinzioni politiche. Il suo amore per Dio e il suo amore per Fuller, un intrigo che si concluderà con un sorprendente atto di tradimento. Spostandosi tra l'edificio del Senato, il Washington Evening Star, il mondo diplomatico di Foggy Bottom e il frontenato in Europa, Fellow Travelers è animato da alta drammaticità politica, umorismo inaspettato e autentica tristezza. È il romanzo più compiuto e audace di Thomas Mullen fino ad oggi. Un romanzo storico sulle conflittuali rivendicazioni di fede, amore e politica durante l'era McCarthy. Ti aspetto per il prossimo appuntamento di Dal libro allo schermo, dove insieme scopriremo cosa ci riserva il mese di novembre e ci immergeremo nelle magie del cinema, della tv e della letteratura. Grazie per l'ascolto. Iscriviti al canale per unirti in questo viaggio magico tra le pagine e lo schermo. Buona visione e buona lettura a tutti.